Ciao creatura, io sono Ekati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai Asmr Scrocchiato il braccio, e sì che ho fatto un altro video prima di questo, sì, sono sempre senza make up perché ne approfitto oggi che ho un po' di voce e la web è per bassa per fare un altro video di sfida tra outfit e con il quesito della settimana anche oggi ovviamente Se raggiungiamo una bella cifra di like, questo format lo porto anche il prossimo mese, ricordo se magari non hai visto la prima puntata di questa serie che questo format è inventato da me Perché ho pensato, cosa mi piacerebbe vedere è che su Youtube Asmr Italia non esiste questa format Ovvero ti propongo una sfida tra due outfit, uno un po' più femminile e l'altro un po' più maschile Tu puoi votare sia in base a quello che mi sta meglio oppure anche a quello che tu indosseresti, più volentieri Poi come quesito della settimana ti propongo un capo d'abbigliamento che sta dentro il mio armadio Che però non sono tanto convinta per qualche motivo, magari perché si è rovinato come abbiamo visto la scorsa settimana O perché quando l'ho acquistato magari cosa mi stava passando per la testa in quel momento non si sa E possiamo poi scegliere tu creatura, sarei tu a scegliere se tenerlo, buttarlo o venderlo o bar regalarlo oppure modificarlo Ok? Bene, in due minuti ho fatto il riassunto del tuo scorso video Benissimo, andiamo al primo outfit che ti propongo E' sempre in tema autunnale, periodo novembre Quindi non posso che non proporti una camicia perché lo sai che io ho le manie delle camicie Quindi questa camicia che ha anche questa i toni autunnali molto grandi comunque Motocrunge sui toni del marrone con questa gonna che ha pagato mi sembra anche questa 2€ al mercato e la camicia sempre sui 2-3€ Vediamo magari indossata anche la camicia dentro la gonna No, vediamo come sta Teniamo su un po' la gonna Vediamo un po', non male Bella, carina Questa è la camicia Questa è la gonna Ci sta Non so di cosa stessi praticando Qui chiudiamo la camicia O la teniamo aperta Vabbè, non importa tanto La mia idea è questa Una camicia qualsiasi e un maglione sopra e una cornellina Bellissime Super cute questa Fa un po' Come si chiama quello stile Dark academy Ma non era dark Non mi ricordo Comunque Dipende Magari con un maglione Nero Vediamo Questo è il mio maglione preferito L'ho pagato 4€ al mercato Wow, che bello effetto Mi piace l'idea del Maglioncione da nonno Largo E poi una bella La gonna è corta Una bella cornellina nera Ne ho anche una Plissettata Però mi andava di più questa Te la proporrono in un altro video Quella plissettata ovviamente Bella Bellissimo Ah, come sono emozionata di questo outfit Bellissimo Magari io direi di chiudere la camicia Vediamo Vediamo se la chiudo Ma potrei stare anche più a lato Sì, volevo che si vedesse anche un po' la camicia Con questi toni autunnali Ma perché ho sempre delle cose attaccate Sono pelificato Vabbè Comunque mi piace proprio il contrasto di Connellina Nera semplice E poi Un bel maglioncione Caldo Confi Bellissimo Carino Carino Dopo ovviamente In base a Si può cambiare il colore di camicia Si può mettere la camicia nera Si può chiuderla Però io ho scelto questi colori Perché sono quelli più autunnali Che avevo E che secondo me Stavano giusti con questo periodo Col moglione lo stravo Perché appunto Ha questi colori Molto autunnali Ha il verde Il viola L'arancione Che fa pensare un po' Anche i colori di Halloween Il nero E È un po' di quel giallo O grano So Un giallo Scuro Colore di foglie Marce Così ecco E questo è il primo outfit Che ti propongo Poi Come scarpe Non le ho mostrate Però Quasi Tanto io ho quelle scarpe Ho gli stivali Ho Le scarpe Quelle Superga nere Oppure quelle tipo Converse nere Tutte nere E Oppure ho quelle lì Anche con Quelle sebrate Nere e grigie Quindi Non è che ho tanta scelta Come secondo outfit Ti propongo Una cosa molto Un po' Abbastanza Black metal Però Secondo me Avendo a casa Delle cose simili Mi era partita Una S Da serpente Neanche Harry Potter Comunque Neanche il basilisco Questo outfit È molto versatile Lo puoi riproporre Anche su Sempre con delle camicie Però Uno stile Un po' Più Metal Grunge Così L'altra era più Cute Invece questo Vabbè Adesso te lo mostro Allora L'idea è questa Una È molto confia Anche questo Una semplice maglia Metal Con un logo O Una qualsiasi maglia Insomma Che Vuoi che si Che si veda Perché ti piace Ok Io metto questa Qui Per me Non stiamo a dire i nomi Vedi Semplice Vabbè Questa è una scritta dietro Ma non ci interessa Poi Beh il pantalone Nero Lo so Che sono sempre Quelli che metto Io da 2 euro Ne ho Due paio uguali Ma vabbè Qua Non ti fa il problema Mi sembra che ho Dei riconfiamenti Sui fianchi Ma sono Fazzoletti Vedi Non ho Dicono se Malformazioni Strane Ok Sono i fazzoletti Che fanno il riconfiamento Questo è il mio poppy Ok Poi Non far caso Si è stropicciata Ma secondo me Stropicciata È anche meglio Questa Camicia Potrebbe andare bene In qualsiasi colore Ma secondo me Rende meglio Questa L'ho pagata anche questa Sui 2 Sui 3 euro Di solito Le camicie Le pago al mercato Quei prezzi lì E questa qui È molto basic Perché è grigia E nera Si abbina con tutto E sono colori Che vanno sicuramente All'ottunno Da mio punto di vista Ed è bella Io la direi Aperta Così Sono passati Di pilli di gatto Non so Vabbè E questo è il mio Outfit Outfit Basic Vedi Eccomi sono io Ecco Outfit Basic Che non riesco a dirlo Di tutti i giorni Tipo Votate 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 Sto dicendo Questa è la semplicità Ma allo stesso tempo Vedi Hai Tipo il tuo stile Il tuo carattere Non so Come spiegarlo Finto Trasandato Ma in realtà Ho aggiunto Solo una camicia E ho reso tutto Le camicie Rendono tutto Più magico Perché Le puoi Sia Indossare Chiuse Ed essere Tipo Aesthetic D'ufficio Voilà Oppure aperte Con una maglia Sotto Che si intravede Molto Sparazzino Outfit Così che Sono super Versatili Le camicie Per quello Io le amo Ho avuto Il mio periodo Dai 14 Ai 35 Anni No scherzo Fino a Qualche anno fa Diciamo Fino a Non lo so 31 anni Così E 30 anni Do Con 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 le t-shirt Metal Passato tutta la mia vita Solo t-shirt Metal Poi Siccome Mi hanno detto Eh ma Adesso Divi Qua Il percorso Psicologico E tutto Lo stiamo lì a dire L'ho detto Ok E mi è presa Questa ossessione Per le camicie E quindi Ne ho tantissime Alcune appunto Purtroppo Ho dovuto buttare Perché Sono rovinate Però Ne ho Sia Normali Con le maniche lunghe Anche con le maniche corte Perché Vuoi In estate Non metterti La camicia Direi di no Perché Sono troppo Versatile Capito Può essere Comodo In base a come Le abbini Anche in base a come Le indossi No Aperto Chiuse Io le stramo Le camicie Mi sono troppo Ossessionata E quindi Ti propongo Queste due Versioni Magari La seconda È un po' più Per le persone Che non soffrono Il freddo Invece L'altra È più per le persone Freddolose E Lo so Che magari Uno potrebbe pensare Ma che outfit Che proposto Del cavolo è Ma Non bisogna Sempre strafare Ecco Ti propongo Anche una cosa Semplice Perché magari L'altro outfit È Con la connellina Così E il maglioncino Secondo me Super estetic Bellissimo Anche quello È confi E Però Io a volte Voglio essere confi Carino A volte Voglio essere confi Però con Un semplice Jeans nero Una t-shirt E una bella Camicia aperta Cioè Capisci Cioè Cioè confi E confi Dipende dal momento Dalla giornata Ecco Dall'umore Dal clima Fuori Da tante cose Soprattutto Dall'umore Secondo me Quello è molto decisivo E andiamo Al quesito Della settimana Qua c'hai Veramente Anche qua È Strong Devi decidere Allora Quesito Della settimana Ti ricordi Che avevo Acquistato Quella Chiamiamolo Maglione Ma l'avevo Comprato Che stava Finendo L'estate Ed è Un maglione Che però È difficile Da Catalogare Sì Un maglione Però Ha Le maglie Larghe Cioè È tutto Bucche Del lato L'avevo Pagato Due euro Lì per lì Non devo andare Al mercato Con mia madre Perché l'ho comprato Con mia madre Dai compralo Dai compralo Io Presa Dall'euforia Dalla dopamina Che mi dà Lo shopping Al mercato L'ho preso Ma con il senso di poi Poi a caso Ho detto Ma quando me lo metto Io questo E soprattutto Per il colore Perché Non riesco Non riesco a capire Come abbinarlo Quindi adesso Te lo mostro È questo qui È uno di quei Maglioni Largosi E larghi Vedi Lì sto Sclerando Non so cosa Stavo dicendo Sicuramente Raccontavo La stessa cosa Che ho detto Adesso Comunque Vedi Non sarebbe Neanche brutto Però Non so Come Non so Come metterla Non so Come metterla Che lo sto facendo Ah ma Sto provando Una cosa Perché mi sto Mettendo questa Felpa Non mi ricordo Probabilmente Voglio provare Indossarlo Sopra La felpa Ma è un'idea Del cacchio Te lo Spoiler Già la cosa Dico Sto Platterando Non lo so Comunque Io che mi metto Le felpe Con gli occhiali Guarda qua No Il mio superpotere È andato Il mio superpotere Qui se ne va In realtà Non è un superpotere È che mi dimentico Di avere gli occhiali E mi metto le cose E tante volte Ma secondo me È stato Schifo Secondo me È uno di quei Maglioni più Estivi Ecco Non è una cosa Invernale Però il problema Secondo me Il principale È il colore Non lo so Quando l'ho comprato Mi sentivo Così Euforica E adesso Che ce l'ho lì Non l'ho ancora Messo Vabbè che poi Vabbè Ma è che Te l'hai messo Anche male Sì ma non c'entra niente Messo così Anche questo Non è Una di quegli Indumenti Necessari È solo di bellezza Ecco Un accessorio Come Perché Qual è l'utilità Di questo indumento Bellezza Solo Però appunto La mia idea Era quella di Si può colorare Di nero Cioè È possibile Se non è sintetica È che non ci sono Non ha Non ha un'etichetta Quindi non riesco a vedere Se è cotone O se è sintetico Perché se è sintetico Non si colora Ma Però potrei provare Lo stesso C'ho capito Ti devo dire una cosa Non lo sa Lei ho chiesto Al quesito della settimana Non so cosa farne Ecate Mio mamma Ha detto Che vuole colorare Deve colorare Una cosa E ha comprato Una specie di cappottino Color burro Mi pare E voleva provare A colorarlo Ha detto Se anche non diventa nero Ma diventa grigio scuro Va bene lo stesso E gli ho detto Ma Secondo te Se io Cioè Tu colori questa cosa E io ci schiaffo Dentro anche una cosa mia Si colora Non lo so Possiamo sempre provare E ho detto Anche se non diventa Nero Ma anche se diventa Verde scuro O grigio Va bene lo stesso Sempre meglio Che quel verde Quel verde È troppo acceso E non riesco ad abbinarlo Perché ho pensato Se fosse Grigio scuro O nero Sarebbe già più Abbinabile Con I miei abiti Con i miei ad No Lo vedo già più No Però Se è sintetico Conosco l'ora Quindi Non lo so Fammi sapere Se appunto Vuoi che lo butta O che lo regali O che lo rivenda Mi ha pagato 2 euro Lo rivenderei Non so 50 centissimi Oppure Lo potrei Tenere E arrangiarmi Dio No Ormai te lo sei comprata E questa estate Te lo devi mettere Però allora Mi devi dire Che outfit fare Come abbinarlo Perché non lo so Oppure Mi verrebbe da pensare Starebbe bene Tipo Sotto Forse Una canotta O una canotta verde O una canotta Negra E ci metto quella Lì sopra Ed è Magari Anche tenerlo un po' Così Che si veda sotto La canotta È l'unico L'unico Appenamento Che mi viene da pensare Però allora Lo bypassiamo Quest'estate Oppure Proviamo a modificarlo E lo Coloriamo Proviamo a colorarlo Non lo so Creatura Sei tu che devi decidere Lo sai Tu hai il pieno Potere Decisionale Sul quesito Della settimana Tu lo sai È stato creato Per questo E E niente Fammi sapere Appunto Quale Dei due Outfit Mi sta meglio E quale Oppure Quale Tu vorresti Indossare Ovviamente Si può prendere Spunto Anche Da quell'idea Di dopo Anche il primo Outfit Per esempio Io ho abbinato Quei colori lì Perché Sono le cose Che ho E anche Perché mi sembravano Quelli più In linea Con novembre Però ho tanti maglioni E tante camicie Gonne poche Però Ho anche Delle conne E quindi Dopo lì Si può Decidere Anche diversi Abbinamenti Anche magari Tutto nero Però A Dark Academy Ci starebbe Scusa Ci starebbe Anche la Camicia La signora Camicia bianca Che è una signora Camicia Noi sappiamo Perché Non solo Per tanti motivi Anche Quello Conna nera Maglione nero Mamma mia Estetic Super estetic Sono sempre Scentrata Vabbè Comunque Fammi sapere Nei commenti Grazie per essere Stata in mia Compagnia Anche questa sera Ho cercato Anche stasera Di essere Abbastanza Sintetica Sintetica Perché devi restare Sveglia Ho bisogno Del tuo Commento E In base a Quanti like Cattureremo In questo video Quanti like Lascerai Su questo video Avrai Questo format Anche il prossimo Mese Quindi Tutto dipende Da te Creatura Hai una Grossa Responsabilità Ecco E Grazie 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 Ti auguro Come sempre Buonanotte Un buon relax Ciao Crea Dura Ciao